Al di là del fatto della valorizzazione di una lingua, io sento che è proprio importante anche il concetto che viene passato, ovvero quello di ascoltarsi, di confrontarsi, e caspita, a volte c'è l'idea che sono tutti cattivi o stupidi, ma non è vero, ci sono anche persone che tu incroci per strada, magari a te non viene in mente di fare due discorsi perché sei immerso nel tuo cellulare, nel tuo mondo virtuale, però se stacchi la testa e fai due discorsi, magari veramente anche la persona che aspetta il bus ti può arricchire in qualche modo con qualcosa da raccontarti. Ciao ragazzi e bentornati a 4 chiacchiere al CR2 Studio, bentornati qui nel nostro studio. Sono molto emozionato perché oggi qui con me c'è un ospite che non proviene dalla nostra zona ovadese, ma viene dalla lontana Genova, precisamente Campomorone. Sono veramente contento di avere qui con me Mike FC. Ciao Mike, come stai? Benissimo. Tutto bene, benvenuto nel nostro studio. Grazie mille. Sono veramente contento perché come ti ho detto fuori camera ti ho conosciuto perché ho diversi amici che ti seguono e mi hanno detto secondo me dovresti provare a chiedere a Michele, a Mike, se vuoi venire a raccontare un po' la sua storia. Io sono andato subito a guardare i tuoi profili, canali YouTube e Instagram e mi sono davvero incuriosito dalla tua storia. Leggendo la biografia leggo musicista, band, racconto storie, canto, cerco di far parlare in tabarchino, in dialetto genovese, insomma tante cose. Quindi mi viene da chiedere chi è Mike FC? Mike, Mike FC è il mio nome d'arte diciamo, io sono Michele e mi identifico come una persona, innanzitutto come un essere umano perché sai a volte si dice subito la professione, quello che si fa ma innanzitutto io sono un essere umano che poi ha delle passioni come tutti e sicuramente una di queste è la musica che ha sicuramente avuto un ruolo fondamentale nella mia vita e poi anche questa voglia, questa grande voglia di comunicare, sento di essere una persona che ha qualcosa da dire ma alla quale piace anche tanto ascoltare, avere uno scambio. Quindi insomma mi potrei definire una persona che ama comunicare e ascoltare. E quello secondo me è quello che emerge più di tutto nei tuoi canali perché si percepisce questa cosa che tu vuoi raccontare delle storie, però storie che secondo me vanno un po' controcorrente rispetto al trend, se così si può chiamare, dei social, quindi andando a ripercorrere o comunque a tirar fuori una lingua che purtroppo non è più così usata che il dialetto, che nel caso tuo è genovese, ma che poi diciamo che è di riflesso un po' così in tutta Italia. Da che cosa, da dove nasce questa tua passione per la musica, per la musica in dialetto genovese, come ti sei approcciato alla musica? Allora partiamo proprio dagli inizi. Quando avevo otto anni i miei genitori mi hanno detto dovresti imparare uno strumento musicale, ti mandiamo a imparare il piano e quindi ho iniziato a prendere lezioni e me la cavavo anche piuttosto bene, però poi forse non ero tanto propenso a stare lì, ad applicarmi, forse non avevo gli stimoli giusti, magari dovevo imparare delle canzoni o tanta teoria e quindi poi verso i 13 anni, entrando nell'adolescenza, ho avuto una sorta di rifiuto, ho detto no basta e con un amico in cameretta abbiamo detto facciamo una canzone, abbiamo fatto una canzone rap e da lì ho scoperto il rap proprio anche nella voglia, cioè come mezzo di espressione. E devo dire che fare rap in quell'epoca era molto diverso da fare rap adesso, perché un ragazzino che si mette a rappare oggi, anche se a 13 anni, ha tantissimi riferimenti. All'epoca invece quando non c'era ancora YouTube, l'unica musica che ascoltavo proveniva dalla radio, da MTV o da queste tv musicali, avevo pochi riferimenti e quindi con questo amico mi ho detto facciamo una canzone alla Sean Paul e ci siamo messi lì con la mia tastiera, con sai quei beat preimpostati, a rappare così. È nata così, questa curiosità verso il rap, questa scoperta, che poi è cresciuta, si è evoluta e quindi nel corso degli anni l'ho approfondita, anche collaborando con altri rapper, anche fondando, facendo parte di una crew, la Mad Boys Crew, con dei ragazzi di Bolzaneto, e poi intorno ai 20 anni mi son detto ma perché non provare a farlo anche in genovese, anche in lingua ligure, come mi piace definirla? Allora scrissi la prima canzone, proprio mentre mi trovavo all'università, e da lì poi pian piano mi sono specializzato anche in quello, ho continuato a scrivere sia in italiano che in ligure, però mi sono reso conto che i dialetti, le lingue regionali, le lingue locali, hanno una capacità comunicativa che per certi aspetti è diversa dall'italiano e a volte anche più immediata, ecco. Bellissimo. Colgo l'occasione, tu mi hai appena detto, mentre studiavo all'università, quindi quale percorso di studi hai fatto? Allora io dopo il liceo scientifico mi sono iscritto a ingegneria delle telecomunicazioni con l'idea, ma non sapevo bene cosa scegliere, ho detto ma ingegneria delle telecomunicazioni, magari imparerò come funzionano le onde radio, perché mi piaceva magari l'idea di un giorno di poter lavorare con la musica e anche con la radio, poi mi sono trovato di fronte a una grossa quantità di teoria, quindi conclusa la triennale, sudando abbastanza, ho fatto poi una specializzazione che era all'interno di ingegneria informatica ma più sul suono e sulla musica, però una volta concluso questo percorso di studio ho detto, caspita la musica mi sta chiamando e io non posso stare sordo a questo richiamo, e allora ho preso questa strada anche in uno studio di registrazione insieme a mio socio Andrews Wright e portiamo avanti questa attività che è affiancata poi anche a varie idee che mi sono venute nel corso del tempo, compresi esperimenti sociali. Ecco, quindi tu avete uno studio di produzione audio a tutti gli effetti. Esatto, esatto, a Genova Bolzaneto si chiama Mad Studio e ne sono passati anche parecchi di rapper anche famosi da quelle parti lì. E come hanno visto questa tua scelta, comunque coraggiosa di magari non proseguire un percorso lavorativo strettamente legato al percorso di studi che hai fatto nella triennale, i tuoi genitori? I miei genitori, eh, allora, quando io ho iniziato a reppare l'hanno vista un po' come una scelta a cui non dare troppo peso. Nel senso, poi, quando ho iniziato a essere dentro una crew, allora andavamo in giro a fare le serate nei posti più disparati, erano un po' preoccupati, pensavano, ah, uno studio for up! Erano convinti che questa attività mi avrebbe distratto dagli studi. Poi in realtà non è stato così. E comunque per tanto tempo ho avuto come la percezione di averli contro. Finché ha un concerto specifico, che mi ricordo che è stato fatto a Ceranesi, a San Martino di Paravanico, dalle mie parti, nell'entroterra, si è mosso qualcosa quel concerto lì. E devo dire, dopo quella volta, sono diventati i miei supporter e spesso vengono a sentirmi cantare e apprezzano quello che sto facendo, ecco. Veniamo un po' invece all'aspetto più videomaking. Tu porti avanti sui tuoi canali social diversi format. Dimmi qualcosa, in tabarchino è uno di quelli più... che è più apprezzato, perché comunque ti esponi molto, ci metti molto la faccia, cioè ti vai in giro per le varie città e cerchi di farti dire qualcosa in lingua ligure. Come ti è venuta l'idea? Guarda, sono ispirazioni che a volte anche io non so bene da dove arrivino, però... Non so... Mi dico, ma cosa succederà? È anche la curiosità a volte che mi spinge a fare queste scelte, anche se qualcuno, poi magari quando comunico alla media mi dicono lascia perdere, ma cosa vai a fare? Devo dire che però a volte poi quando vedono il risultato un po' si ricredono. E quindi ti dico, è nata questa voglia di sperimentare, di vedere cosa sarebbe successo ad andare in giro con un cartello proprio tipo uomo sandwich in giro per i quartieri di Genova. E il riscontro è stato ottimo e mi ha dato anche spunti di riflessione, perché poi quando pubblichi un qualcosa, un contenuto, vedi le reazioni, capisci anche delle dinamiche e una cosa che ho capito è che forse stavo comunicando a tante persone liguri, ma non solo, anche perché poi persone che magari non vivono più in Liguria guardano questi video anche con un'emozione particolare e sentire anche i suoni di una certa parlata arrivano al cuore, arrivano al cuore. Ma ti ricordi l'esatto momento in cui hai detto io faccio questa cosa? In questo caso no, in questo caso no, per altri progetti me li ricordo, per esempio c'era un'altra follia che ho provato a fare e reppare la Divina Commedia, proprio mantenendo il testo di Dante originale, quindi il primo canto dell'Inferno, e quello me lo sono sognato. Mi sono svegliato la mattina, ho aperto gli occhi e ho detto devo reppare Dante e quindi poi l'ho realizzata anche quella lì. Invece hai un ricordo in particolare di tutti gli esperimenti che tu stai facendo che ti ha fatto capire che la tua vocazione in effetti è raccontare storie, incontrare persone? Io per esempio ho visto tra i tanti video che hai fatto, mi ha colpito quello in cui tu intervisti un ragazzino da Renzano, se non dico una cavolata, un ragazzino, un bambino, neanche un ragazzino, che conosceva il dialetto grazie al nonno. E mi ha commosso, nel senso che mi ha fatto subito pensare al bel rapporto che ci può essere tra questo bambino e suo nonno. Tu hai un ricordo particolare che ti ha emozionato? Rispetto agli incontri che ho avuto? Sì, sì. Ma allora ce ne sono stati diversi. Ma uno dei più belli che ricordo è di una signora con contratto di origine veneta, che però era venuta a vivere a Genova da piccolina, da bambina, e parlava il genovese, parlava benissimo il genovese, e io le feci questa domanda un po' anche un po' intimidito, le dissi ma com'è stato spostarsi dal Veneto a Genova? Perché comunque, sai, lasciare il luogo d'origine è un po'... può essere difficile, ci sono degli effetti, legame. E lei mi sorprese dicendomi Ah, quando ho visto il mare ho detto Dio di qui non mi muovo più. E quindi questa donna che poi ha raccontato anche vari aneddoti di quando andava a pescare, veramente è stato uno degli incontri più belli ed era venuto a Genova Marassi, nel quartiere di Marassi. E tu che idea hai del genovese? In che senso? Nel senso come se dovessi spiegare a una persona che non è ligure, che non è genovese, adesso magari parliamo di Genova, a una persona che è di Milano, Torino o a uno straniero, che cosa ti diresti? Chi è il genovese? Ma intendi la lingua? No, intendo proprio la persona, perché sai c'è un po' questa cosa tipica, accoglienza ligure, quindi insomma tu, con il fatto che proprio ci vivi, ti immergi dentro al mondo genovese. Allora, partiamo da una cosa, che io sono genovese da parte di madre, quindi mi la metti le mani avanti. Quindi sono mezzo sangue, diciamo, no vabbè, mio padre è di origine marchigiane, anche se poi è nato in Sardegna, ha una storia un po', insomma ho avuto la fortuna, io la trovo una fortuna, di conoscere più realtà in Italia, quindi se la realtà ligure, che quella sarda, che quella marchigiana, e sicuramente quella ligure è quella che ho esplorato di più. E secondo me sei un po' esagerato con questa cosa dello stereotipo, di un ligure che non è accogliente, certamente il genovese, magari non ti dà subito quella gran confidenza, non ti dà quel gran calore, però quando si va un pochino oltre, magari si va oltre quella superficie, trovi anche tanta generosità. Questo lo posso dire, e anche lo vedo negli eventi di beneficenza, ai quali ho partecipato anche cantando, dando una mano, tante donazioni, cioè non è tirchio il genovese, secondo me il genovese è più risparmiatore, diciamo, non spero però ecco. E per quanto riguarda l'accoglienza, io, no davvero, ma perché io sono cresciuto con mia nonna, e mi ricordo quando magari veniva qualche cugino, amico o conoscente a trovarla, la prima cosa caga e diva, te fa su caffè, cioè era proprio questa accoglienza, si metteva a preparare caffè, metteva qualcosa all'intavola, quindi è vero, non siamo il massimo dell'accoglienza, dipende anche un po' con chi ci paragonia. Sono stato anche nella rivera romagnola, ed effettivamente lì senti un'accoglienza di un certo tipo, però ci sono anche altri posti in Italia, dove ti trattano peggio che a Genova, ci tengo a dirlo. Ok, questo già ti devo sottolineare. Ma tu da chi hai imparato il dialetto Ligure? Allora, è stata un po' anche una ricerca, come ti dicevo, io sono Ligure per metà di origine, e quindi la famiglia, dalla parte di mia madre, che si chiamano Parodi, parlavano in genovese, mi è entrato nelle orecchie. Devo anche ringraziare un insegnante, che all'elementare mi ha fatto imparare una canzone in genovese, e anche quello lì, ma è rimasta poi, anche se facevo terza elementare, mi pare, la musica, in qualche modo, in dialetto, in lingua, ti rimane, ti rientra nelle orecchie, ti rimane, poi magari la riscopri anni dopo. E infatti poi, io, venendo dall'entroterra di Genova, ho anche avuto la fortuna di avere magari più facilità nel trovare persone che mi parlassero in genovese, anche tra amici, però non era una cosa così comune. La volontà proprio di impararlo bene e di migliorarlo ce l'ho avuta veramente ai 20 anni. Quando ho iniziato a scrivere proprio canzoni in genovese, ho detto, voglio impararlo. E da lì, mi sono reso conto che si può imparare, si può imparare anche a 20 anni, a 30 anni, non c'è un limite. Ovviamente, se qualcuno te lo mette nelle orecchie è tutto più facile. Certo. E tu credi che, cioè, quanto sei legato alla lingua locale, io la chiamo in maniera magari errata, però al diretto, in un mondo in cui invece si cerca sempre di cancellare gli accenti, perché se si sente troppo l'accento romano non va bene, di correggere la parlata, la cadenza. Secondo te invece quanto è importante mantenere le origini, le radici nella propria terra, anche imparare il dialetto, conoscere almeno le basi. Secondo me, in quest'epoca in cui stiamo vivendo, è importantissimo. E questo è anche un po', diciamo, un po', parte della missione che mi sento che sto portando avanti, perché da un lato abbiamo una globalizzazione che a volte è un po' un appiattimento, nello standardizzare tutti, e io trovo questa differenza tra multiculturalità e, da una parte, diciamo, globalizzazione. Nella multiculturalità c'è una varietà, c'è una diversità che arricchisce e che secondo me ha senso non dimenticare perlomeno. Io faccio queste cose anche perché poi magari fra vent'anni quella persona che ho intervistato non la trovo più o chissà, magari non ci sono neanche più io tra vent'anni, chi lo sa, chi lo sa, voglio dire. E quindi trovo che sia proprio importante capire chi si è, ma non per dire sono meglio di un altro, per capire da dove vieni. Mi è capitato anche a volte di andare nella scuola e io dico ai ragazzi, ragazzi, imparate l'inglese perché con l'inglese andate ovunque, capite tutto, veramente è fondamentale. Se imparate anche un po' di genovese, un po' di ligure, qualunque sia la vostra lingua, vi può essere utile per ricordarvi anche da dove venite. Bellissimo. E ti piacerebbe, adesso ho una domanda un po' così, un domani avere un progetto tuo personale da portare nelle scuole a livello proprio ligure, intendo, come fosse una scuola, un laboratorio di... Sicuramente sarebbe molto interessante per i ragazzi e per i bambini anche perché io li ho trovati molto molto recettivi. Mi è capitato che mi invitassero nelle scuole e quando c'era da cantare questi bambini erano proprio partecipi e in alcune scuole addirittura sono andato e hanno cantato delle mie canzoni. Bellissimo. È stata un'emozione incredibile. quindi può essere interessante come attività musicale sicuramente anche perché voglio dire ascoltiamo tanta musica in inglese e perché non far studiare ai bambini anche della musica nella lingua dei loro luoghi. Quindi quello può essere molto interessante. Poi avevano fatto varie iniziative anche a Genova per esempio per portare dei nonni nelle scuole per insegnare qualcosa ai ragazzini e aveva avuto un buon riscontro anche a quella idea. Io trovo che la ricchezza anche delle lingue regionali lingue locali sia anche quella di poter mettere in relazione anche generazioni differenti. Per esempio io facendo anche il rap in Genovese mi sono reso conto che da una parte riuscivo a comunicare a ragazzini che magari non conoscevano Genovese e dall'altra parte comunicavo con persone più grandi che non avrebbero mai ascoltato rap però perché era in Genovese hanno detto ma ascoltiamo un po' sentiamo un po'. E appunto questo secondo me è un po' la chiave del tuo lo chiamerei successo se me lo concedi perché è proprio quello il fatto che guardavo i tuoi i tuoi numeri su Instagram perché poi purtroppo o per fortuna non lo so ci si riporta sempre un po' ai numeri e tu hai numeri importanti sui tuoi sui tuoi canali social a numero di commenti di mi piace e quindi dico cavolo ma questi consensi li sta ottenendo su Instagram non li sta ottenendo su Facebook quindi il fatto che tanti giovani che sono su Instagram ti seguano con così tanto affetto secondo me volevo dire che quello che tu stai facendo è un po' hai vinto nel senso stai riuscendo a trasmettere dei valori tra virgolette antichi a persone ragazzi molto più giovani perché appunto il linguaggio del rap ti permette di arrivare a loro il format che tu porti a livello di video sono molto social friendly quindi credi che possa essere questa un po' la chiave del tuo successo? Io credo che tanti ragazzi e ragazze tanti giovani sentano un po' anche bisogno di ricercare anche un po' da dove vengono anche un po' da cosa c'era perché secondo me almeno parlo della situazione ligure abbiamo avuto un po' un salto generazionale di quelle generazioni che hanno detto no bisogna anche parlare italiano non devono parlare il genovese perché sennò poi vanno male a scuola e queste cose che poi si è scoperto che non sono così vere anzi il bilinguismo per certi aspetti può avere degli effetti benefici proprio nel ragionamento delle persone però ecco l'italiano è importantissimo lo dico qua perché poi mi dicono eccolo è arrivato questo non vuole vuole che si parli solo di aletto no chiaramente no però ecco c'è stato questo questo gap e noi ci troviamo in una situazione in cui abbiamo la possibilità di far vivere questa lingua oppure no e secondo me tanti tanti giovani ci tengono ne ho incontrati tanti che mi dicono io vorrei impararlo ma non so come fare e bisogna dargli degli strumenti io penso in qualche modo di dargli uno spunto per simulare la loro curiosità per fare anche poi loro una ricerca e poi se lo vorranno impareranno anche loro stiamo cercando di mettere dei mezzi a disposizione per imparare anche questa lingua sì ne stiamo parlando con diverse persone perché c'è questo bisogno io sento tante persone mi scrivono anche su Instagram su TikTok io vorrei impararlo come faccio mi vuoi dare un consiglio io cerco di muovermi anche in questa direzione e con altre persone stiamo valutando di fare qualcosa nel concreto già il fatto di creare dei contenuti in lingua trovo che sia molto importante dei contenuti proprio nel presente e anche il fatto che ci siano persone musicisti che producano musica in questa lingua in genovese in vigure è proprio un segnale che la lingua è viva però c'è da fare bisogna darsi da fare e invece veniamo un secondo al tema delle tue canzoni che cos'è che ti ispira che cos'è che ti fa scrivere a cosa pensi quando scrivi in che situazioni raccontami un po' il backstage diciamo del lato creativo ma guarda io sicuramente trovo molta ispirazione nella natura quindi veramente a volte ancora passeggiata in un bosco mi dà qualche stimolo poi non ho comunque una regola fissa per dire no mi devo ispirare in questo modo osservo quello che intorno e a volte cerco anche di fare silenzio in un certo senso di abbassare un po' le distrazioni e cogliere l'ispirazione sembra un po' molto astratta come cosa però veramente a volte siamo talmente bombardati da intrattenimento rumore distrazione che quando riusciamo a trovare un momento di pace è più facile per la nostra creatività venire fuori e i temi che trattano le mie canzoni sono molto variegati cioè quindi a volte racconto qualcosa di me a volte racconto storie a volte racconto viaggi insomma mi piace svariare sia in italiano che il ligure anche lì trovo che per certe cose sia più efficace una lingua per altre un'altra e c'è di buono che l'italiano magari può raggiungere un pubblico più ampio d'altra parte il genovese riesce a veicolare anche certe emozioni con parole che quasi sono intraducibili in italiano quindi insomma è anche lì una scelta una questione di scelta e dove è che scrivi? poi c'è tecnicamente hai un quaderno su un telefono allora c'è questa cosa molto romantica per cui scrivere su carta è sempre più bello dipende dipende spesso scrivo sul cellulare a volte mi registro cioè neanche scrivo ho qualcosa in testa metto rec magari anche sul cellulare sullo smartphone mi registro e poi rielaboro con l'idea dipende un po' non c'è una regola fissa anche su questo ok e poi la realizzi presumo nel vostro studio sì in produzione sì sì in studio e poi ho anche un home studio quindi anche in casa mi sono creato questo spazio per poter elaborare anche lì con più calma i miei progetti e invece il lato produzione quindi diciamo la base è una cosa di cui ti occupi esclusivamente tu o hai delle persone con cui collabori allora questo aspetto della produzione musicale si è evoluto proprio da quando io a 13 anni 14 anni ho detto ma sai che c'è invece che giocare ai videogiochi provo a giocare con un programma di produzione musicale e lì la tua ingegnere si vede il celeberrimo FL Studio ok da cui sono partiti tanti e quindi lì ho iniziato anche a occuparmi di arrangiamenti e nella maggior parte dei casi arrangio le mie canzoni io a volte collaboro con altri musicisti ed è anche bello poi avere qualcuno che ti suona lo strumento proprio con le mani con la sua anima arricchisce ulteriormente però diciamo che sono anche competente nell'ambito dell'arrangiamento e mi piace farlo per me ok per i miei progetti invece prima di andare un po' a concludere questa chiacchierata prima di entrare nello studio mi hai detto che sei un po' stanco perché appunto hai preso parte hai organizzato un evento io questo tuo aspetto lo conosco un po' meno quindi se mi puoi parlare di questo tuo lato diciamo da organizzatore di eventi allora sono direttore artistico di un evento che si chiama Gesemu Festival che è una serata praticamente dedicata alla musica inizialmente solo alla musica in Ligure poi l'abbiamo ampliata anche fuori dai confini regionali per invitare a esibirsi sul palco anche persone che scrivessero canzoni in altri dialetti in altre lingue sparse in giro per l'Italia e quindi l'anno scorso abbiamo avuto degli ospiti dalla Sardegna quest'anno dalla Sicilia e dalla Valle d'Aosta con le loro bellissime lingue anche sul palco è molto bello questo evento perché sinceramente io penso che non è che il genovese sia la lingua più bella del mondo penso che ogni lingua abbia la sua ricchezza e il suo valore ed è bello scoprirle infatti la cosa bellissima di questo festival che organizziamo in collaborazione col comune di Campomorone è vedere anche il pubblico che apprezza le lingue degli altri e c'è uno scambio quello di cui parlavo anche un po' prima c'è uno scambio proficuo da queste diversità da queste differenze e poi è anche bello trovare i punti in comune quindi mi sono occupato dell'organizzazione di questo evento ogni tanto mi capita di organizzare concerti anche quelli in cui canto io perché spesso mi capita di esibirmi in giro per la Liguria e non solo e ultimamente ho un mio pallino è stato anche quello di organizzare un incontro anche proprio rivolto ai giovani più per il dialogo per capire cosa possiamo fare nel concreto per valorizzare la nostra lingua e anche per tramandarla ecco bellissimo e invece per andare proprio a chiudere ti volevo chiedere se hai mi sembri una persona che ha tantissime idee che farebbe 200 cose contemporaneamente ma hai un tuo sogno nel cassetto che vorresti realizzare da qua a non so quando ma guarda i sogni devo dire la verità è diventato un po' motto per me tiriamoli fuori dai cassetti realizziamoli come li realizziamo ce l'abbiamo questo sogno ce l'abbiamo lì davanti facciamo un piano magari capiamo qual è l'obiettivo guardiamo dove siamo noi e cerchiamo di capire quali sono tutti gli step per realizzarlo io sono dell'idea i sogni tiriamoli fuori dai cassetti realizziamoli e soprattutto se sono sogni che portano un beneficio condiviso ecco e questa è una cosa che sento in quello che sto facendo perché poi al di là del fatto della valorizzazione di una lingua io sento che è proprio importante anche il concetto che viene passato ovvero quello di ascoltarsi di confrontarsi e caspita a volte c'è l'idea che sono tutti cattivi o stupidi ma non è vero ci sono anche persone che tu incroci per strada magari a te non viene in mente di fare due discorsi perché sei immerso nel tuo cellulare nel tuo mondo virtuale però se stacchi la testa e fai due discorsi magari veramente anche la persona che li aspetta il bus ti può arricchire in qualche modo con qualcosa da raccontarti bellissimo io davvero ti ringrazio ti auguro grazie a te un grandissimo per il tuo futuro spero di venire magari una volta a raccontare un tuo evento in cui prenderai parte come cantante a raccontare un po' il tuo backstage perché sicuramente deve essere molto interessante ancora grazie grazie a te Lorenzo fino a qua nella lontana Ovada ah dietro l'angolo dietro la più o meno più o meno grazie ancora grazie a voi ragazzi grazie a tutti per essere rimasti qui con noi e voglio fare un ringraziamento anche ai fratelli Pini che hanno fatto questo blocco di legno bellissimo con il nostro logo inciso con un pirografo grazie davvero tanto ragazzi vi invito come sempre a lasciare un commento a condividere questo video con tutti i vostri contatti e noi ci vediamo lunedì per un prossimo video ciao grazie a tutti